Da quando sono diventato consigliere comunale le segnalazioni si sono moltiplicate, già da giornalista erano tante, ora sono tantissime e sono felice di dare voce e di dare sfogo ai cittadini. Mi trovo in Città Vecchia, a Taranto, in Piazza Fontana e qui si sta restaurando un palazzo che sarà trasformato in albergo. Benvenga la riqualificazione del borgo antico, altrimenti veramente moriremmo tra le macerie, quindi benvengano gli imprenditori che investono nella riqualificazione, significa fare turismo. Però bisogna avere rispetto di tutti, anche degli abitanti dei palazzi confinanti. Infatti gli abitanti di un palazzo confinante con questo albergo che è in fase di costruzione si sono lamentati del fatto che proprio la esecuzione dei lavori, le varie impalcature, in buona sostanza li hanno costretti a diventare carcerati. Le varie strutture, le varie impalcature li hanno fatto sì che queste persone risultassero murate, chiuse in casa, murate vive. Passatemi questa espressione certamente colorita, un po' esagerata, ma che rende l'idea di come questa gente si trovi letteralmente blindata. Io non metto in dubbio che vi siano le autorizzazioni, che chi sta eseguendo i lavori lo sta facendo sulla base di atti di permessi leciti, però mi domando e mi rivolgo all'amministrazione comunale su quale base, con quale criterio sono stati dati questi permessi, si dovevano considerare i danni che gli abitanti degli altri palazzi avrebbero subito. Danni appunto consistenti nell'essere, nel trovarsi chiusi, murati in casa. Nel momento in cui sto registrando pare che i lavori siano fermi, pare che sia stato detto che in un mesetto circa sarebbero stati completati, non so se è vero, non so se è falso, sta di fatto che questa gente si ritrova chiusa, lo ripeto, chiusa, murata, viva in casa. E ora facciamo un tour, per così dire, piano per piano, per farvi capire come si vive in questa situazione. Peraltro sono state fatte anche delle PEC da parte degli abitanti del Palazzo Confinante per avere risposte, PEC rivolte al corpo di Polizia Municipale, ad alcuni uffici tecnici dell'amministrazione e le risposte ancora non sono arrivate. E siamo al primo piano, è una situazione davvero incredibile, abbiamo aperto la finestra, guardate c'è proprio il cantiere, il cantiere che letteralmente entra in casa. Quindi ci sono anche ragioni di sicurezza, ma è vista una cosa del genere, un cantiere, le impalcature, le travi che entrano in buona sostanza in casa. E qui abita una signora che ha problematiche a livello cardiologico ed è diabetica. Immaginate cosa significa per una persona che ha queste situazioni vivere blindata, viva, in un'estate davvero torrida. Ci siamo spostati al secondo piano, identico quadro, guardate, altra blindatura, murati vivi anche qui. La cosa assurda è che, vedete qui c'è la caldaia, c'è il tubo di scarico dei fumi, ma di fatto, visto che in buona sostanza le strutture murarie hanno chiuso tutto, hanno tappato tutto da tre lati su quattro, da tre lati su quattro in pratica, e i fumi non riescono, come dire, a sfogare, perché è tutto chiuso anche da sopra, i fumi in buona sostanza, anziché fuoriuscire, come dire, rimangono chiusi, rientrano quasi. È una situazione paradossale, qui non c'è neanche addirittura lo spazio, visti appunto le impalcature, neanche per poter stendere così gli indumenti, le robe. Un altro quadro penoso e pietoso, e neanche a farlo apposta, qui c'è una persona che è cardiopatica, ha dei bypass e ha problemi respiratori, tant'è vero che fa uso appunto di ossigeno. E siamo ora sul terrazzo, così, per così dire, si avrà una visione panoramica di questo carcere, di questa blindatura che è stata fatta, e quindi proprio si ha l'idea davvero di un fortino, passatemi l'espressione, di un bunker, in cui, in buona sostanza, gli abitanti del palazzo si ritrovano. Qui, peraltro, c'è una struttura muraria che è stata costruita e che proprio va a entrare nel terrazzo stesso. Io, da consigliere comunale di opposizione, non mollo la presa. Contatterò a breve il Corpo di Polizia Municipale, gli uffici tecnici, perché voglio delle risposte anche sulla tempistica dei lavori. Gli abitanti della città vecchia hanno diritto di respirare, di affacciarsi e respirare. Non devono essere murati, vivi, in casa. Grazie.